Musica Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com Passate nel link in discussione Bene a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 18 Siamo qua ragazzi con un nuovo pack opening Nel vostro scuro giocatore Signori, dopo che abbiamo trovato un'icona over marzo 90 Stiamo trovando tanta bella robetta Sono qua prontissimo per portarvi un altro pack opening Qua ragazzi su FIFA Con una nuova squadra settimana Quella con Suarez, Neymar, David Silva e Pjanic Che sono i giocatori più forti di questa settimana E ragazzuoli, ci sono i pacchetti IF garantiti Me ne sono preparati 15 per voi ragazzi Quindi spero di trovare qualche cosetta Mi raccomando, dovete spolliciare subitissimo Perché abbiamo questi 15 pacchetti IF garantiti Sperando di trovare Neymar, Suarez, Silva oppure Pjanic Uno di questi qua io sarei contentissimo Certo, se troviamo Neymar o Suarez Tanta roba Ragazzi, mi raccomando Preparatevi Iniziamo subitissimo dal primo pacchetto Qui Questo qua IF garantito Quindi forse con il primo Adesso sono qui Dice, poi può essere Farò altri 5 Quindi se riusciamo ne apriamo una ventina Vediamo un po' Subito un bel brasiliano No, non ci dà un brasiliano Ci dà sempre sto Cacacavoli De Calu 83 Che poi questi qua ragazzi Sono anche quelli non scambiabili Quindi non posso neanche diciamo rivenderli Visto che ne ho molti doppioni Devo anche scartarli Quindi ogni IF che troverò E già ce l'ho Mi tocca scartarlo Andiamo con il secondo Forza FIFA Facci trovare un cavolo Di Neymar O Suarez O non lo so Qualcosa di buono per favore Niente Tiresco portiere Anche questo Ormai trovato 160 miliardi di volte Vero? Tutti i stessi IF Ci fai trovare Di FIFA Grazie Che poi è anche vero Che comunque Gli IF di questa settimana Ragazzi ne ho trovati Prima di niente Quasi tutti Solamente Mi mancano appunto I top player Ma io non dico subito Che ne vado a trovare Neymar Però un Suarez No vedi Mi vado a trovare 200 campi di questa Così Che ce faccio? Oddio questo è davanti Eppure è buono Perché se non sbaglio Questo però Se non sbaglio Questo costicchia Qualche cosetta E io Gratis non ce l'ho Dovrei avere quello a pagamento Quindi ci faccio doppioni Esatto Un via listata Quindi qua ci abbiamo guadagnato Ragazzi Qualche credito Qui l'abbiamo guadagnato Andiamo con un altro Bacchetto Siamo al quarto Questo è il quarto Bacchetto che ci apriamo Vediamo se ci dà Questo brasiliano O se ci dà Uruguay Ci dà Questo Suarez No Anche questo già ce l'abbiamo raga Anche questo già l'abbiamo trovato 83 Ilicic Gratis E quindi purtroppo Questo pure mi tocca scartarlo Dai FIFA Dai FIFA Dai FIFA Forza 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 Stupiscimi Stupiscimi Con questo IF No Mi devi dare Mi devi dare Brasiliano Però Mi hai dato comunque Un Savic Di Ralassio Questo ci mancava Questo ragazzi Ci mancava Più che altro Queste IF Sono buoni Per fare altre sfide Se ci chiedono Qualche IF O qualche giocatore Da squadra settimana Ci possono servire Li ho trovati tutti Mi li ho trovati tutti Mi serve solamente Pjanic Silva Nemaro Suarez Mi servono questi Quattro Quattro giocatori Quattro ce ne servono Uno di questi quattro FIFA Di nuovo Di nuovo ATT Di nuovo Ilicic Vedi questi Ne erano mai Milioni Milioni di Ilicic L'importante è che Non mi fai trovare Brasiliano E mi dai Raffa L'86 Che già anche quello Già ce l'abbiamo Quindi Cioè Dai Brasiliano No Portogallo Ho flashato tantissimo Portogallo Ci da Sto cacacacchi Di Pizzi Anche questo ragazzi Però sono due giovedere Walkout Walkout Che troviamo In forma Pizzi 84 Ma adesso Ragazzi Ve l'ho detto FIFA Per favore Te lo chiedo Per favore Questo Questa è gratis Quindi mi tocca Scartare pure questo Per favore Dammi Brasiliano AS Del Paris Saint Germain Forza Tante gratis Quindi mi stai dando Un giocatore gratis Però io sono contentissimo Noi siamo contentissimi Niente Ci da Esterno Sinistro E ci da Babel 81 Anche questo Ragazzi Già trovato Lo so io cosa devo fare Per trovare Neymar Forza Gira Mentre si gira Mentre si gira Mentre si gira Mi sono collato tutto Ah Mi sono collato tutto Io Ok Niente Di nuovo sto cacacazzi Che palle Mi sono collato mezza cosa Ragazzi Mi stava portato via mezza casa Calù di nuovo Ma Mi sei stoppato il rito magico Perché Mi stava Un collato tutto Il coso Il screen è lì Mi lasciamo perdere Allora Ripetiamo tutto da capo Mentre si gira Mentre si gira Forza 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 Brasileiro Francese TD CDB La CDB Ce l'abbiamo anche lui Che palle Ragazzi Già ce l'ho questi Ce li ho tutti Sono tutti poi non citibili Tutti non citibili Tutti che devo scattare Sto scattando tutti Perga Tutti Dai rimangono cinque Forza Ti prego Ti prego Che il ristorante Sia con noi Ti prego Di nuovo portiere Di nuovo sto schifo Di nuovo questo schifo Ma dai I pacchetti ormai sono proprio Standarizzati Ma dammi un Neymar Un Suar Un Pjanic Un David Silva 90 Su questi quattro pacchetti Rimangono adesso Dai 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 questo è Neymar Me lo sento No Che schifo Oh Kazaki Ma come cazzo Se chiamo quest'altro Dell'Eister Oh Kazaki Lo vedi Che schifo Ma c'ha già 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 Ma già ce l'ho Pure questa Iamo bei Iamo cenna Che massaggio è stato Su Tre pacchetti Rimangono Dai Un culo a falli Un attimo a finirli Non mi da neanche Un brasileiro Un Suarez Un Silva Uno spagnolito No di nuovo Di nuovo I po' vedi Che sono standardizzati Sti pacchetti Di nuovo questa cagata Ci sta andando Ragazzi ma fanno schifo Dai dammene un altro Se c'è coraggio Dai dammene un altro Dammene tre Dammene tre attaccati Forza Forza Dai So proprio curioso Se me ne dai un altro Guardate giuro Non lo so Spagnolo Asa Sabia Alonso Anche questo Già ce l'ho Ragazzi Alonso Molto buono Sono tre walkout Che troviamo nei pacchetti Però Anche questo Già ce l'abbiamo Mannaggia i sandali Mannaggia Mannaggia i sandali Questo oggetto non cedibile Mi tocca scartare pure questo Ultimo pacchetto Lo apriamo col naso Forza Che il naso sia con noi Che ci porti fortuna Siamo nel periodo natalizio Mi dovresti portare fortuna Aiutami tu Niente Okazaki di nuovo Okazaki Di volte il tre Ah su 15 pacchetti Trovo tre volte Okazaki E tre volte quel calchetto De portiere del merda Calù Babel E si di me E tu sorella Ma perché sto schifo Mi dai pipa Perché Ragazzi allora Mi sono fatto L'ultimo pacchetto Ok questo è l'ultimo pacchetto Ragazzi ne abbiamo aperti 16 con questo Quindi 16 pacchetti If garantiti Poi ragazzoli Se mai ci posso riprovare Questi giorni Ma Con questo pacchetto Concludiamo questo pack opening Ci ho provato ragazzi A farmi questi 16 pacchetti Ne ho Già fatti altri Una ventina In live E non abbiamo trovato In 36 pacchetti Non abbiamo trovato Né Mar Né Suarez Né Pjanic E né abbiamo trovato Davin Silva Però ragazzi Non finisce qui Ci sono ancora giorni Per fare questi pacchetti Vi porterò O altri pack opening Oppure vi porterò Un'altra bella live Con i pack if garantiti Quindi signori Con questo pacchetto If garantito Io vi saluto Spero che comunque Questo vi sia piaciuto Incrociamo le dita Lasciate adesso Un like ragazzi Per portarmi fortuna Forza e coraggio Lasciate un like Lo state lasciando L'avete lasciato L'avete fatto Se state col telefono Cliccate più di una volta Perché se no poi Non ve lo lascia E siamo pronti Signori 3 2 1 PAM Così proprio così Tiè Guarda come lo apro Così proprio Sbangata Sgangata Dammi questo Brasiliano Portogallo di nuovo Di nuovo Portogallo Di nuovo Portogallo Pizzi 84 Un altro Volcat Però vabbè Certo il Portogallo Solo quando c'è Ronaldo Mi piace Perché quando c'è Stanno l'artine Mi piace Perché niente proprio Comunque Signori 16 pacchetti E purtroppo Niente ne marre E niente di quell'altro I malediti che stanno nascosti Spero comunque Questo video vi sia piaciuto Quindi mi raccomando Un bel paloci in su Commentare Condividete Passate a Facebook Instagram Trovate tutti i link In descrizione Ci vediamo con un prossimo appuntamento Qua ragazzi Sul mio canale Vi aspetto tantissimi Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.